fratelli bianconeri e sorelle bianconere super attenzione buon anniversario come che si dice la francese buon compleanno rabbio cavallo pazzo rabbio 29 anni Mirko Nicolino il metro di Mirko Nicolino ciao ciao a tutti ben ritrovati dai fermo lì che bello ritrovarsi dopo una vittoria abbiamo vinto? Eh beh sì io ho goduto come un matto ieri sera e come ti ho sentito stamattina pensavo che avessimo perso però sì non si può più godere e non si può fare niente qua ci arriviamo è delirio collettivo quindi iscrivetevi al canale sempre di più ne vogliamo sempre di più like al video commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunte del nuovo contenuto eccolo qua ve l'avevo promesso il metro Nicolino piomba non sulla vittoria della Juve ma sul nuovo organigramma societario perché c'è una grossa novità giuntuli ha riunito i quattro amici al bar cioè la sua vecchia squadra mercato ora nomi cognomi professioni punti di riferimento ma prima caro Mirko ripartiamo dal delirio correttivo e cioè no ripartiamo da Rabiot che fa 29 anni eh ma questo Rabiot lo rinnoviamo o lo salutiamo? Ah beh è tutto in alto mare in questo momento sui rinnovi io lo terrei io lo terrei perché che che ne dica qualcuno in questo momento trovare eh un calciatore dello stesso livello senza pagare il cartellino mi pare abbastanza difficile certo è un ingaggio importante però eh non paghi il cartellino ma paghi l'ingaggino e è giunto l'ingaggino e ha detto dipende dal budget e dipende dal budget ma questa cosa noi la diciamo da tempo è solo che qualcuno poi non non ci arriva a questa cosa qui cioè eh la tutto quello che la Juventus farà dipende dal piano industriale piano industriale ed è questo il motivo per il quale ad esempio Scaravino non parla di vittoria della Coppa Italia ma di finale della Coppa Italia perché la finale di Coppa Italia ti consentirebbe anche di giocare la Supercoppa e prenderti anche quegli altri sette milioncini. Tutto viene fatto in funzione del budget. Motivo secondo il quale non dovremmo sentire dei nostri tifosi che dicono bisogna tifare contro perché così cacciano l'allenatore perché se ti fico oltre cacciano l'allenatore vuol dire che non ci qualifichiamo per la Champions non c'è il budget. No non lo cacciano l'allenatore. No è appunto. Allora questa cosa è paradossale. Allora spieghiamolo a tifosi. Allora spieghiamola facilmente questa cosa. Cambiare allenatore alla Juventus costerà circa 20 milioni di euro. Ok? Questi 20 milioni di euro saranno recuperati dai 80 minimo che arriveranno l'anno prossimo dalla Champions League. Se tu l'anno prossimo non arrivi in Champions League, non ti qualifichi per la Champions League e non incassi questi minimo da 80 a 100 milioni. I 20 per cambiare l'allenatore non ce li hai e quindi poi non si cambia l'allenatore. Capisci quanto è controproducente ti fare contro? È una follia totale. A parte che è una follia a livello umano. A parte che è una follia a livello umano. Però però attenzione. Caro il mio Mirko Nicolino attenzione perché si sta scatenando il parallelismo dichiarativo. Perché la Juve vince Coppa Italia con Lazio 2 a 0. Io dico oh basta otto palle gol che perdiamo. Un bel tre tiri in porta due gol e si vince 2 a 0 senza subire mai. Ma nel post partita perché tu sai che i nostri eroi finalmente hanno vinto una partita quindi tutti pronti a parlare. Dopo il 2 a 0 vanno tutti a parlare. Soprattutto gli attaccanti che hanno segnato. Ed ecco che se da un lato c'è un Dujan Vlaovic che tra le tante cose che dice nel post partita a un certo punto dice faccio i complimenti al mister per come ha preparato la partita e quindi uno dice oi boh. Allora il percorso di crescita di Vlaovic con Allegri si è compiuto. Dall'altra c'è un Federico Chiesa che nel post partita dice e ancora con sta storia di Empoli e poi San Siro è sfumato il sogno Scudetto bla 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 dobbiamo prenderci le critiche perché siamo alla Juve eccetera eccetera e a un certo punto dice perché anche se il mister e la società parlano di quarto posto alla Juve devi giocare per vincere lo Scudetto e quindi si è subito spaccato il popolo perché si Dujan ha detto così ma Chiesa è contro l'allenatore. Chi teniamo dei due? Ma tutti e due perché semplicemente ma sì ma perché Chiesa ha dimostrato semplicemente che lo spirito Juve deve essere sempre predisposto alla ricerca di vincere la vittoria e di primeggiare. Poi però noi non dobbiamo mai dimenticare che la Juventus è per prima cosa un'azienda e la Juventus fa dei piani industriali come dicevamo prima. Il piano industriale ha delle previsioni. E' ovvio che quando tu vai in campo chiunque vuole provare a vincere tutte le partite ma lo stesso Allegri avrebbe preferito sicuramente arrivare primo piuttosto che terzo o quarto. Il problema è che poi devi avere la forza per arrivare primo e non terzo o quarto. tra l'altro. Scusa Mirko ma secondo te abipietà secondo te Chiesa te la dico brutale eh ci è o ci fa? Cioè e no e no a questo punto. E il gioco. E no e no qui cioè cioè lui dice lui dice perché lui parte dall'allenatore ma mette dentro anche la società e quelli che lo pagano. Cioè dice loro parlano di quarto posto però noi becchiamo le critiche giustamente perché ha la Juve di giocare per vincere lo scudetto. Cioè ma lui pensa quindi secondo te che noi potevamo veramente vincere lo scudetto e quindi è colpa di qualcuno? No. No. Lui lo sa che questa Juventus non poteva vincere lo scudetto. Allora nelle ultime partite chi è stato molto attento ha sempre visto un grande feeling tra Allegri e Chiesa con diversi cenni dal campo. Ieri addirittura c'è un momento in cui Chiesa è un po' scoraggiato, perde una palla su un fallo laterale e c'è Allegri che lo rialza proprio fisicamente e lui si gira verso il mister e gli fa un cenno per dire grazie mister che mi hai alzato perché sono un poco scoraggiato. Tanto è vero che nel primo tempo lui non fa bene e poi nella ripresa che Chiesa fa il Chiesa. No? Quindi in campo mi pare che stiano tutti andando verso la stessa direzione fino alla fine di questa stagione e poi tireremo le somme. però poi nella comunicazione ognuno cerca anche di tirare un po' l'acqua al suo mulino. Evidentemente Chiesa, non lo sto accusando, attenzione, è un ragionamento normalissimo dei calciatori, ha percepito che in questo momento ci sia anche una grande attenzione nei confronti dei giocatori perché Allegri attenzione alle sue responsabilità ma fin qui ha sempre fatto da parafulmine a tutta una situazione, soprattutto l'anno scorso quando era già totalmente da solo, non c'era almeno una dirigenza, non c'era un'area tecnica, non c'era nulla e quindi Chiesa dalla sua parte dice sì ok c'è qualcuno che ha parlato di quarto posto ma noi in campo abbiamo sempre cercato di raggiungere il massimo e il gioco delle parti, ha voluto dire non ci accusate di mancanza di impegno perché noi il nostro abbiamo sempre cercato di farlo indipendentemente dei piani della società. Allora a questo punto perdonami ma scatta il metro Mirko Nicolino sulle parti se saranno ancora insieme o se si dividono percentuali ad oggi che l'anno prossimo alla Juve ci saranno Allegri, Chiesa e Vlaubic tutti e tre. Tutti e tre bassissime, massimo 20%. Chi si stacca? Penso Allegri. Ah. Quindi in questo momento. Allora è veramente accerchiato, è rimasto da solo. Ma Claudio scusami ma l'abbiamo viste tutti le 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 immagini del post partita. Io le ho zoomate al ho preso la foto più alta risoluzione che ho riuscito a scattare. Devo 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 farti. Max aveva gli occhi lucidi. Sì ma tu hai dei problemi perché non dormi? Ti devo aiutare perché se zoomi di notte. Lo sai. Se zoom di notte. Sì. Sì zoom di notte perché devo cogliere tutte le sfaccettature delle situazioni. Io ieri sera ci siamo sentiti con te tardissimo anche ma io ho continuato dopo e quindi dopo aver scattato una bella foto di Allegri davanti alle telecamere ho zoomato e Allegri aveva gli occhi lucidi perché si percepiva che fosse stanco e anche un po' stufo devo dire la verità perché si percepisce una buona parte della dell'ambiente e della piazza che non riesce più a distinguere tra i problemi reali e e quelli invece virtuali. Eh ci sono delle difficoltà oggettive che ha questa squadra. Vedi il rigore non voglio aprire questa parentesi perché poi ne parleremo. Il rigore dato è poi tolto. Lì la squadra crolla mentalmente dopo un avvio che sembrava anche pimpante no? E poi la squadra crolla. Poi nel secondo tempo invece come se fosse scattata la scintilla e ritrova l'orgoglio e la voglia di giocare. Ora va bene le colpe dell'allenatore però in questo momento Massimiliano Allegri è indubbiamente un uomo solo e accerchiato e soffre come qualsiasi essere umano perché l'allenatore e io faccio l'allenatore nei momenti di difficoltà. Allora io faccio sempre questo esempio. I attaccanti si girano, si voltano dietro e se la prendono con i centrocampisti. I centrocampisti si voltano dietro e se la prendono con i difensori. I difensori si voltano dietro e se la prendono col portiere. Il portiere guarda la panchina e dice oh mister ma non è colpa mia. L'allenatore è da solo, non se la può prendere con nessuno a quel punto. Si volta ma non trova nessuno. Te la prenderai con il tuo vice no? Al massimo te la prendi con lì, al massimo. Che poi se la prende con te. Quindi attenzione il nuovo organigrama societario che si va dipingendo tu dici che è già verso il nuovo allenatore. Cosa sta facendo Giuntoli? Chi si sta riportando a casa? Ma si sta riportando praticamente tutto lo staff che aveva il Carpi. Uno staff che negli anni si è diviso. Ad esempio Stefanelli ha fatto sei mesi al Napoli, poi è andato a Cesena, ora è a Pisa, Scala e dopo del Carpi ha fatto qualche mese a Napoli, poi è andato a Empoli, poi è andato al Genoa e ora invece lui li sta riunendo. Tu sta riunendo quello staff che ha consentito al Carpi di fare dall'eccellenza alla Serie A. Cioè una cavalcata incredibile no? E tutti quegli uomini lì alla fine saranno riuniti alla continassa, sia con Pompilio anche che è il suo alter ego. Questo cosa significa? Significa che Giuntoli è entrato in punta di piedi ma sta creando praticamente le condizioni affinché alla continassa dal primo luglio lui sia l'unico regnante. Da quel momento in poi non ci sarà spazio per nessun altro perché regnerà Giuntoli con tutta la sua corte dei fedelissimi e quindi poi ci sarà una linea tecnica unica. Il problema di quest'anno grosso è che le deleghe seppur differenti poi si incrociavano e con un problema che mentre le deleghe dei dirigenti si incrociavano e loro avevano attritità tra tra di loro le colpe poi ricadevano comunque su Massimiliano Allegri. Capisci qual è la situazione? Ora ora vediamo il prossimo anno. Quindi l'anno prossimo su chi ricadrà l'anno l'eventuale ricordo? Eh sei arrivato alla domanda che stavo per fare che io faccio ai tifosi. Perché faccio questa domanda? Perché perché via il parafulmine di Allegri ovviamente noi tifiamo affinché la Juventus l'anno prossimo faccia il meglio possibile ma quelli che oggi se la prendono col parafulmine io a questi qua io chiedo se malauguratamente dovesse andare male e noi non ce l'auguriamo perché noi tiferemo sempre pro e mai contro. Con chi se la prenderanno? Con Mirko Nicolino. Bravo sicuro mille per cento. Questo sempre. E sarà un Nicolino out. Io sono abituato quindi benvenuto nel club. Però 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 abbiamo ancora forse dieci partite per seguire la nostra squadra del cuore. Sono tante ancora. Attenzione. E noi le seguiremo sempre fino a notte fonda. Che si vinca che si pareggia o che si perde. Che si perda la faccia è sempre la stessa. sempre. Conciata male devo dire ormai. Noi non dormiremo mai a prescindere dal risultato. Noi non dormiremo mai più io te lo dico. Mirko grazie. Abbiamo fatto un po' di chiarezza come sempre. Ma non abbiamo parlato del rigorino. Ma qual? Il rigorino. Quale? Il rigorino. Ma perché c'è la rigore? Stranamente oggi apro la rassegna stampa quotidiani sportivi unanimi. Quello su cambiasso era rigore. Da confermare anche al VAR. E perché? Perché non l'han confermato. Perché sono tutti d'accordo? Eh? Ma ti sfugge? Perché sono tutti d'accordo? Perché nel weekend c'è stato un episodio uguale? Perché c'era quello di Turano giorni fa per quello. Incredibile guarda. Ma a parte gli scherzi. Ora io mi sono rassegnato perché vale tutto. Perché se quella di Patrick non è una giocata volontaria allora è finito il calcio. Devo citare Fabio Caressa che nel weekend ha detto mi sono arreso anche io perché tanto qualunque decisione prendano sul campo e qualunque sia il regolamento, il protocollo VAR, loro hanno ragione. Quindi è inutile. Senza stare ad andare troppo lontano. Andiamo lontanissimo. Derby vinto dalla Juve 1-0 con gol meraviglioso di Treseghè con Collina che ha dovuto spiegare al proprietario del Toro Cairo il regolamento sulla giocata e sul fuorigioco. E nonostante gliel'avesse spiegato non lo voleva accettare. No, 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 non solo lui. 15 giorni di titoli di giornale. Esattamente. Non lo ha accettato nessun altro, non solo Cairo. Ed è passata una storia come un derby. Srubato. Rubacchiato. E quello è, quello è. Ma questa è un'altra rubrica che in genere facciamo il giovedì. Mirko, grazie. Che dire? Abbiamo, stavo perdito, abbiamo una bella settimana. No! Abbiamo solo due giorni e si rigioca. Meraviglia. Non sono più più quanto. Non abbiamo tre. Non abbiamo tre. Non abbiamo più tre. Se prima non si dormiva una notte a settimana, ora non si dorme tre giorni su sette. Non è il caso di prenderci delle ferie. Grazie Mirko, alla prossima. Sì. Alla prossima. Like e commenti. Brava. Iscrivetevi al canale, like, commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate.